Ciao siamo qui dentro al Moscone Center per la GDC, siamo partiti subito alla grande perché alla prima conferenza che trova 25 minuti, io sono dovuto tornare in albergo a prendere una roba ma mi fidavo del nostro fotone che si è presentato con 15 minuti di ritardo, una conferenza che trova 25 minuti, abbiamo preferito evitare di entrare. Però c'è da dire che era una conferenza un po' così, magari era anche interessante. Era su 7 modi per fare un gioco morale, 7 tecniche per scrivere un moral game, 7 tecniche che sono mammolo, eolo, visolo, trippolo e moralo, italiano mediolo. E niente quindi adesso ci facciamo un giro qua, vediamo cosa c'è mentre attendiamo alla conferenza successiva. Per esempio, alle nostre spalle, potete ammirare, bravo cameraman che mostra, è un progetto fatto dagli studenti, sono dei poster che analizzano la storia dei loro videogiochi preferiti. Sono le classiche cose che si fanno a scuola anche in Italia, no? Sì, 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 assolutamente. Io ricordo che alle medie, infatti dovetti fare un panel, insomma una roba del genere per Binding of Isaac, che è veramente una figata. Tra l'altro io facevo, sì, sì, alle medie, erano gli anni, primi anni 90, sì, tra gli anni 20 e gli anni 90. Comunque, vabbè, e questo è un altro motivo per cui stiamo un po' indietro in Italia, ma veniamo qui a San Francisco proprio perché ci sono, per andare avanti, nel tempo, anche se poi in realtà torniamo, no, andiamo avanti. Vabbè, continuiamo il giro, dai. Ok. Ma cos'è, è un orso? Ok. 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 Ok.